Sommate l'effetto del Covid al crollo dei consumi del 10,8%, qualcosa che ha provocato una perdita di circa 120 miliardi di euro rispetto al 2019. Questo vi spiegherà come mai ci siano state oltre 390.000 imprese del commercio non alimentare che nel 2020 hanno dichiarato fallimento, un fenomeno non compensato dalle 85.000 nuove aperture. E una stima dell'ufficio studi di ConfCommercio, la riduzione del tessuto produttivo, ammonterebbe a quasi 305.000 imprese. Alla luce di questi dati spaventosi, quello di Carlo Sangalli, presidente di ConfCommercio, è un appello accorato alla politica. Il 2020 si chiude con un bilancio drammatico per il nostro sistema produttivo colpito dal Covid. Quasi mezzo milione tra imprese e lavoratori autonomi potrebbero chiudere l'attività. Oltre all'indispensabile vaccino sanitario c'è bisogno del vaccino economico, cioè indennizi finalmente adeguati al crollo dei fatturati e l'utilizzo di tutte le risorse europee per rimettere in moto l'economia del nostro Paese. L'emergenza sanitaria ha provocato una moria di aziende che potrebbe mettere in ginocchio il Paese nei prossimi mesi. La politica dunque ha un solo imperativo, fare presto.